messaggio di mia madre non uscire di casa neve in puglia mia madre andate a controllare la nonna come sta e della guerra mio padre io che non ho mai imparato a mettere le catene la macchina adesso come devo fare mio nonno il problema non è la neve il ghiaccio se proprio devi uscire abbottonati al supermercato non stava già più niente mio padre sto senza giubbotti pesanti attento a camminare con quelle scarpe a mamma che hanno la sola liscia e poi cadi il ghiaccio e ti rompe il febore a mamma per non scivolare non camminare su parciapiedi cammini in mezzo alla strada sì così poi magari uno mi investe però per lì va bene così mio padre mo col ghiaccio si romperanno le tubature quelli al nord fanno bene che si mettono i termosifoni sotto al pavimento non come a noi che fa sempre freddo poi quando si vede una macchina con la neve sopra si fa il tutto scommesso e quella viene d'alta mura no viene da gravina e all'interno sta succedendo il macello anche se accendi i termosifoni la casa è ghiacciata anche perché quelli di a fianco non li accendono mai i riscaldamenti bocca a loro mia madre vedi a comprare i maglioni che non sono di lana ma di acrilico mo abbiamo freddo mio padre fai una cosa prendi la macchina e fai 2-3 giri dell'isolato ancora si scarica la batteria mio padre senza di mandare a prendere la nonna chiamo lo zio che quello c'ha la 4x4 vado alla guerra vabbè mamma non ti preoccupare anche se finiscono le cose da mangiare tanto io c'ho la farina ci mandano solo i bombardamenti lo zio ha portato i bambini a giocare con le bus delle mondese sulla neve alle complanare come erano belli se devi frenare non frenare di colpo che poi la macchina scivola mi raccomando a mamma copriti i reni amore di mamma ha detto lo zio che quello fa l'autista che se prendi la macchina non devi usare il frenamano eh vieni a casa mamma che stasera facciamo il brodo che è quello mantiene caldo vabbè mamma tu mi stai a dire tutte queste cose non fare non andare ma non sta nevicando eh ma c'è aria di neve